Una cittadinanza onoraria al milite ignoto. Il progetto, presentato a tutti i comuni italiani tramite lanci, punta a ricordarlo attraverso la cittadinanza che ciascun comune conferirà appunto al milite ignoto. Un impegno diretto per far conoscere la storia e onorare la memoria di quel soldato di nessuno diventato di tutti. È la grande nuova iniziativa per la celebrazione del centenario della traslazione della Salma nel sacello dell'altare della patria. Inghilterra, Francia e Italia sono state le prime nazioni che nel 1920, Inghilterra e Francia e nel 1921 noi, hanno inventato questa figura che non ha precedenti storici perché i trionfi di onori erano riservati una volta soltanto ai grandi condottieri. Tutto questo rappresenta, come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, memoria e consapevolezza della nostra identità nazionale che ci aiutano per costruire il futuro. Specialmente in questi tempi incerti che vengono spesso paragonati ad una guerra. Fa strano che proprio in un periodo di pandemia ci sia questa ricorrenza. È la dimostrazione che comunque le guerre, qualsiasi essi sia, sono dietro l'angolo. Il nemico cambia, ma le minacce poi sono le stesse. La commemorazione avverrà a Roma il 4 novembre del 2021. Per l'occasione, Ambima, l'Associazione Bande Musicali Autonome, promuoverà l'esecuzione in prima assoluta italiana e mondiale di un'inedita pagina patriottica per banda sinfonica scritta dal compositore partenopeo Giovanni Ermete Gaeta, noto al mondo intero per aver scritto il testo e la musica della Marcia Militare, la leggenda del Piave.